Ciao, avevo voglia di girare un video haul e quindi ho preso la palla al balzo visto che siamo usciti stamattina, ho visto gente, ho fatto qualcosa che sembrava normale e che non facevo da tanto tempo e quindi ho detto, quando sono tornata ho detto voglia di girare un video e quindi sono qui appunto a registrare. Non vi nascondo che mentre preparavo c'avevo un po' la tachicardia e non vi nascondo che sto un po' in agitazione, non so perché, però vabbè ho voglia di girare quindi ci provo. Abbiate pazienza se non vi sembro super pimpante però è così, c'è un po' de pathos. Allora, devo farvi vedere tanta tanta tantissima roba tra cui anche alcune cose che mi erano state inviate ma capite a me, non c'avevo proprio nessun nessuna voglia e quindi piano piano adesso vi mostro alcune cose. Voglio iniziare però dallo shopping che ho fatto io, questo shopping l'ho fatto tipo la scorsa settimana, questo che vi faccio vedere per primo, perché dovevo ancora prendere il regalo del mio compleanno. Mia nonna mi dà sempre qualche soldino, io però non l'avevo speso sinceramente anche perché il mio compleanno sapete è stato il 27 maggio, poi un po' di cavoli, poi quello che è successo insomma alla fine non avevo preso il mio regalo di compleanno quindi ho deciso di fare appunto un pochino di shopping. Tutto quello che vi faccio vedere l'ho preso in un negozio privato vicino alla mia zona però considerate che un po' tutti sti negozi ma anche cinesi, so che tanti non comprano dai cinesi ma tanto più o meno la roba è sempre quella, non è che è cinese in sé che c'è scritto made in Cina, anzi in alcune c'è scritto pure made in Germany quindi bah, comunque li trovate un po' ovunque. La prima cosa che vi voglio far vedere è un pigiamino veramente adorabile che ho pagato 7,90€, è fatto così di un tessuto tutto in microfibra. Questa è una taglia molto piccola perché è una S ma in realtà è una S morbida quindi non sto neanche con la pancia di fuori, mi piaceva perché ha questo merletto qui quindi con un bel reggisena a balconcino fa un bel effetto. E poi ha il pantaloncino che come vedete per essere una S non è una S proprio piccola, anzi io l'ho dovuto misurare perché pensavo che di vita mi stesse largo, invece mi sta bene. L'ho preso perché mi servivano dei pigiamini nuovi, di solito estivi non è che ho proprio pigiamini, metto una maglietta e un pantaloncino raccattato, non c'avevo completini quindi questo mi è sembrato carino. Ho preso anche un altro pigiamino, diciamo una camicetta da notte ed è carina, è carinissima, guardate quanto è bella, c'ha ancora l'etichetta, questa l'ho pagata 6,90€ e ha appunto i toni del grigio con i pua rosa e anche questa c'ha il merlettino e anche sotto ha la sua parte di merlettino. Anche questa l'ho provata, è carina. Questa che misura ho preso? Addirittura questa è un extra small, ma non sembra affatto un extra small, è comunque molto vestibile. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è questa magliettina, l'ho pagata 8,90€ che non è pochissimo per una magliettina, anzi per una mini magliettina. Ho detto, senti, io me la prendo perché è fatta così, però è un po' più corta delle magliettine che utilizzo io, però essendo un po' svolazzante l'ho vista molto carina anche su uno shorts per dire, quindi ho detto perché no, anche con lo shorts a vita alta, sì questa proprio ferma non ce lo sta, con uno shorts a vita alta è carina, oppure anche dentro volendo, la devo ancora mettere, non l'ho provata, niente, non ce vuole stare. Poi, sempre per quanto riguarda gli shorts, ho preso questi qui, guardate quanto sono carini, mi stanno un po' grandi all'altezza della ciocia, cioè tipo se vede che sono grandi, però a me non mi dà fastidio perché mi dà quell'effetto un po' morbido che non mi dispiace, poi non è che tutti stanno a guardare davanti alla ciocia, spero. E quindi l'ho preso un po' morbido, infatti se non sbaglio sono una M, e lo stesso modello c'era anche rosso, però non so, questo è proprio un nero intenso, però dalla macchina fotografica tende a sbattersi un pochino. C'era anche rosso, però quando l'ho provato mi stava troppo corto e mi si vedeva troppo la parte sopra dell'interno coscia, che non sto molto a mio agio con quella parte del mio corpo, quindi non mi vedevo tanto bene. In più mettono questi specchi che quando ti metti qualcosa sembra che sei piena a zeppate cellulite, che è vero che una ce l'ha, però in quel caso sembravo veramente piena, e quindi ho detto no, no, lasciamo perdere, non l'ho presi. Però vorrei tornare e magari provare a vedere se hanno un altro tipo di modello sempre rosso, perché con la Converse rossa secondo me stanno bene. Lo sto utilizzando tantissimo con sopra, perdonatemi ma è stropicciata perché l'ho appena lavata, con questa maglia bianca con scritto ciaone, la metto proprio davanti dentro gli shorts e dietro la tengo aperta, cioè la tengo fuori, non so perché, mi piace lo stile con la maglietta davanti e dietro no. E questa è una taglia unica, è una maglietta un po' più attillata per quanto riguarda le maglie che porto io, io le porto sempre molto extra large, invece ho voluto provare e col pantalone un po' più morbido sotto, questa stretta sopra sta carina, anche questa veniva sui 7,50€ se non sbaglio. Mi piaceva perché, non lo so, è proprio il ciaone che mi piaceva, un po' come per dire baffangù, poche parole no. Poi, devo dire che mi sono buttata sui vestitini perché l'estate io veramente faccio fatica a mettere me gonne, sceglie maglietta, pantaloni e sceglie maglietta, mi metto un pezzo unico e vado subito, cioè soprattutto quando vado di corsa che non posso stare a cercare abbinamenti e cose varie. E quindi sono andata sui vestitini e ne ho trovati di adorabili, mo se me va dopo vorrei provare a farveli vedere pure indossati, però mo non c'ho voglia di mettere me lì addosso, quindi se trovo pure la verve di farveli vedere indossati ve li faccio vedere volentieri. Questo l'ho già indossato ma ho ottenuto il cartellino attaccato alla stampella proprio per ricordarmi il prezzo e veniva 10,90€. È un po' più lunghetto dei vestitini che porto io e ha la spallina che si mette qui e questa che si mette qui, quindi rimane così sulla spalla. Un po' scomodo devo dire la verità perché comunque quando ti muovi sta cosa blocca un po' i movimenti, però era talmente carino che l'ho preso ugualmente. Ovviamente ci sono andata a fare la spesa, pessima idea. Più o meno sullo stesso genere ho preso questo che è bellissimo, anche questo l'ho già indossato ed è appunto verde sempre con i pallini bianchi, però è molto 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 lungo. E questo si può mettere sia senza la cintina, quindi rimane proprio dritto a camicione ma a me non piace, oppure appunto con la cintina che vabbè non è una cintina, è tutta stropicciata, cioè comunque era pure tenuta male ma a me insomma poco mi importava e anche questo veniva 10€. Stesso modello, identico a questo, l'ho preso bianco perché io non mi posso far mancare niente, c'era anche in nero ma avendo preso quell'altro con la manichina così non mi andava a deprendere tutto uguale, però anche questo con il cinturino nero è sempre lungo 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 lungo. Poi questo è il vestitino che avevo quando vi ho fatto il video dove chiacchieravo mentre mi truccavo, è adorabile, tra l'altro è freschissimo, ha questa parte qui insomma del seno che rimane con questo sbuffo qui davanti, io cerco sempre di comprarmi cose che vanno così senza le spalline, ma non avendo il seno questa parte del torace mi rimane veramente troppo piatta e troppo busto, non vi so spiegano troppo busto, troppo torace e quindi non mi piace tanto, quindi ho deciso che cercherò delle spalline e metterò appunto delle spalline morbide per sistemarlo un po'. È carino come vestitino, poi è molto più fresco anche di quegli altri. Un appunto che ci tenevo a fare, quando nel video io dico non ho il segno del costume ma il segno del reggiseno, dicevo la verità perché io, cioè a parte che non c'avano proprio senza di bugie, qua mi si segna proprio la pelle perché porto i reggiseni stretti per cercare di tirassù quel poco che c'è da tenessù, perché io al mare porto comunque i reggiseni a fascia, quindi laddove ho detto non è il segno del costume, poi ho detto ieri siamo andati al mare, non era comunque il segno del costume perché io non porto reggiseni così, ma porto la fascia, al massimo ho la fascia che si lega qui ma appena arrivo la tolgo perché odio i segni, poi vabbè obiettivamente poco, come si dice, col sole di tutti i giorni magari qui un pochino ti segni, ma in realtà era veramente il segno di quando io mi sveglio perché dormendo con il reggiseno quando ti svegli rimani tutta segnata, quindi non è, non avevo detto una bugia, era la verità, comunque questo era carino. Per quanto riguarda lo shopping diciamo che ho fatto in questo negozietto è tutto, non ho preso nient'altro, però la roba è veramente tanto, ho paura di fare, veramente di metterci tanto tempo. Allora, prima di farvi vedere il resto vi faccio vedere altre cose che avevo preso da Southfield e avevo preso questa medaglietta, anzi loro sono stati molto carini perché hanno capito che io in quel momento non avrei fatto vedere nulla nei video perché appunto non era un buon momento, comunque vabbè, avevo preso questa catenina che vista così magari non vi dirà niente in oro rosa e dentro ci dovrebbero essere le iniziali mie di Lillo e di Stefano, quindi la S e la L e di nuovo la S. Scusate, vedrete un taglio ma ci ho avuto un momento mio. Poi mi avevano mandato un orologio, mi avevano chiesto di scegliere appunto un orologio con sopra la fotografia che vi metto qui da qualche parte e quindi avevo preso questo orologio con la foto di Stefano sul cannone di Mirabilandia che ho regalato però a mia sorella, molto carino perché l'ho preso col cinturino in acciaio, l'unica cosa è che si può stringere ma non si chiude bene, infatti più di una volta mia sorella mi ha detto ho rischiato di perderlo perché col tutto che abbiamo provato a chiuderlo la chiusura non è proprio eccezionale, io ve lo dico. Poi avevo preso un altro bracciale con il simbolo dell'infinito e su ogni simbolino dell'infinito c'è un'incisione e io ho fatto scrivere come sempre Fibbi Stefano e Lillo. Un'altra cosa che mi sta piacendo tantissimo è questa catenina che mi ha inviato sempre Serena di Serena Profumi è una catenina che vedo tantissimo al mare, proprio sulla spiaggia, io la sto mettendo tanto e di solito metto questa catenina qua, guardate quant'è bella, con le piume e le medagliette rosa e poi io di solito ci abbino questa qui, però mi piace proprio il fatto che ci siano più collane l'una con l'altra l'unica cosa questa volta che devo dire è che si è innerita un po' prima delle altre questa cosa la devo dire ma stiamo comunque sempre parlando di bigiotteria naturalmente io giù ve lascio sempre tutti quanti i link andiamo con i miei acquistini ancora che ho fatto oggi la H&M ho preso questa magliettina, canottierina, guardate quanto è bella, proprio bella 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 e tra l'altro mi devono arrivare delle cose da Zaful per una collaborazione e credo di aver preso un vestitino molto simile a questo anche per quanto riguarda il tessuto questa veniva a 7,99€ e ho preso una a 38, però so 38 grandi, vedete quanto sono grandi, non so minuscole poi avevo provato gli shorts perché ne avevano tantissimi e ho trovato questi invece di 20€ l'ho pagato i 10€ di questo bel lavaggio scolorito io l'ho preso un po' grandi perché sto in fissa con questi pantaloni molto molto larghi non so perché ho questo look scacciato nella testa e quindi mi piace anche vedermici tipo con un anfibio rotto perché comunque sapete io d'estate anche adesso ho tipo gli anfibbi di pelle arti così quindi mi piace proprio questo look un po' americano che non lo so, mi piace sono bel tessuto, sono belli tosti e poi l'ultima cosa che ho preso che non ho provato però c'erano tantissime misure è questo vestito che non è eccezionale però io l'ho preso perché è un pezzo unico con scritto Vienna ed è un tubino estivo quindi semplicissimo ma mi piace perché appunto è un pochino elasticizzato io questo l'ho pagato 9,99€ e ho preso una 36€ avevo preso una 38€ che già mi sembrava piccola però vedendoli insieme non era così tanta la differenza quindi ho preferito prenderne una misura più piccolina perché ho pensato che forse l'elasticizzato poteva cedere dopo mi trovavo questo vestito giganterrimo e di lunghezza più o meno era simile quindi questo è molto carino era tantissimo che non facevo shopping nei negozi infatti ho trovato... ho avuto difficoltà per dire ero entrata da Zara e non ho trovato un bene merito cavolo ho preso solo un costumino per Stefano la cosa che da H&M invece con i saldi si compra bene sono gli accessori infatti ho preso... ma io di queste non avevo prese due no tra l'altro mi hanno rilasciato anche lo sconto del 50% che è valido fino al 14 agosto ho preso questo con tutti i orecchini che comunque danno un po' sui cerchietti ce ne sono tanti 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 dovete stare attenti però perché in alcuni mancavano appunto la coppia quindi mi sono dovuta mettere lì a guardare bene e poi ho preso queste catenine che adesso mi piacciono tanto queste fatte così questa per dire è una unica che ho preso su... forse Happiness Boutique credo vabbè non ricordo comunque ho preso questa con tre collanine differenti solo 3 euro le cose carine, carine, carine le ho prese da Carrefour ho preso una similconverse, le scarpe con i cactus ciao sono Mr.YouTube Mr.YouTube vai dai, se no mi si scarica la batteria il pezzo forte è questo gigante Bialetti ebbene sì, abbiamo comprato la nuova macchina per il caffè abbiamo preso questa qui, la Bialetti Smart bianca rigorosamente perché a casa nuova comunque la Mugona faceva un po' schifo, verde ma non è soltanto una questione di design assolutamente era perché comunque la prima Mugona, le prime che fecero erano eccezionali questa qua ve l'avevo detto da quando l'ho comprata non mi ci sono mai trovata particolarmente bene con i secondi modelli appunto proprio, cioè, de plastica invece quella che avevo io era una signor Mugona e poi quando ci metti l'acqua casca tutta dai bordi quando fai il caffè dalla cialda un po' va nella tazzina e un po' casca dai lati quindi veramente uno schifo e quindi abbiamo comprato questa che tra l'altro era anche in offerta quindi questo era quanto spero di non essere stata troppo moscia ma devo recuperare un po' tutto quanto vi do un bacio gigante un like se vi è piaciuto il video e soprattutto un like se siete contenti che sto tornata Basta! Basta! Ok Basta! 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 Grazie a tutti.